Quando studi non riesci a comprendere le informazioni o in ogni caso non riesci a farlo come vorresti, dove sta il problema e soprattutto dove sta la soluzione? Qual è il modo, la procedura che possiamo seguire per evitare questo problema e risolverlo? Oggi voglio parlarti di questo, ma prima di farlo voglio ricordarti che puoi richiedere l'accesso al corso gratuito sul metodo di studio per studenti universitari. Attraverso il link in descrizione inserisci il tuo nome e la mail in cui puoi ricevere tutti i contenuti del corso. E' gratuito, quindi provalo e sicuramente ti può aiutare. Tornando invece all'argomento del video di oggi, vediamo anzitutto la sigla insieme e poi ti faccio capire esattamente qual è il problema che incontri quando non riesci a capire le informazioni che studi e soprattutto come risolvere tale problema. Vediamo quindi insieme come far a capire ciò che studi e soprattutto quando non riesci a farlo c'è una soluzione che dovresti applicare. Partiamo dalla prospettiva teorica e poi arriviamo all'esempio pratico che è la cosa più importante. C'è una bella differenza tra il sapere qualcosa e averlo capito davvero. E questa immagine, per quanto semplice, secondo me è abbastanza potente nel far passare questo messaggio. Sapere qualcosa vuol dire avere delle informazioni, ma non per forza riuscire a metterle in ordine per creare qualcosa di senso compiuto. Mentre aver capito qualcosa davvero, come ci fa vedere l'immagine a destra, vuol dire utilizzare le stesse informazioni, ma ordinarle, dare un senso. Quindi a destra abbiamo un quadrato e con gli stessi pezzi però a sinistra non abbiamo compiuto niente di concreto con un significato ben preciso. Questo a livello teorico. Vediamo a livello pratico come possiamo capire come si applica e di conseguenza riuscire a capire ciò che studi, a comprendere ciò che studiamo. Questo è un estratto di un testo. Si parla di freezing. Non ci interessa molto il contenuto, anche se adesso andremo a leggerlo insieme, ma è abbastanza semplice. Voglio farti capire dove arriviamo applicando quello che abbiamo visto adesso. C'è la differenza tra il sapere qualcosa e l'averla capita davvero. Comunque, cominciamo con una lettura rapida, anche perché il materiale è abbastanza semplice. Perché il freezing, la lettera congelamento, diventa un comportamento geneticamente determinato? Come ovvio, non c'è modo di saperlo per certo, poiché non abbiamo alcuna traccia fossile che testimoni dell'evoluzione delle capacità comportamentali o mentali. Comunque, un'ipotesi ragionevole è che il freezing sia una risposta vantaggiosa di fronte a un predatore. Principale pericolo per la maggior parte degli animali. I predatori rispondono al movimento dal quale sono eccitati. Restare fermi di fronte al pericolo è spesso la miglior cosa da fare per l'eventuale preda. Questa è la base di partenza. Quindi abbiamo letto le informazioni. Ovviamente non ci interessano tutte. Andiamo ad estrarre dal testo solo le informazioni effettivamente importanti. E questo è quello che normalmente fanno tantissimi studenti e altre tante studentesse. Il problema è che spesso si fermano qui, cioè nel sapere quali sono le informazioni importanti senza comporre qualcosa di senso compiuto. Quindi si fermano al sapere, come vedi ho rimesso nuovamente l'icona in basso a sinistra, e si fermano qui. Le informazioni sono presenti, cioè le sai, ma non riesci a comporre qualcosa. Perché parli di freezing, comportamento geneticamente determinato, predatore, risposta vantaggiosa. Non c'è ordine, non c'è una regola ben precisa. Ecco che dobbiamo fare uno sforzo in più. E questo è quello che ti permetterà di passare dal sapere al capire. Hai preso le informazioni dal testo iniziale, hai capito quali sono quelle più importanti, adesso è il momento di metterle in ordine. E quindi siamo passati dal sapere al capire le informazioni. Le informazioni appunto sono le stesse, identiche frasi. Ma adesso hanno un ordine, sia in termini visivi, ma anche per esempio ho aggiunto il grassetto, per farti capire i concetti più importanti e sono anche più grandi. Per esempio il concetto di freezing, che è la cosa importante che stiamo studiando, è messo in primo piano grande in alto. Che cos'è questo? Un comportamento geneticamente determinato. In che cosa consiste? Nel restare fermi. E questo restare fermi è una risposta vantaggiosa. Perché è una risposta vantaggiosa? Perché di fronte a un predatore, dato che questi, il predatore in generale, risponde e rispondono al movimento, rimanere fermi vuol dire probabilmente salvarsi la vita. Ecco perché parliamo di freezing ed ecco perché questo comportamento è stato geneticamente determinato e è stato tramandato via via nelle specie durante l'evoluzione. Quindi come vedi, qui abbiamo capito esattamente e abbiamo creato un ordine ben preciso. E la differenza tra sapere le informazioni e capirle è fare questo passo in più. Quindi parti dal testo, capisci le informazioni importanti, ma non fermarti lì. Perché in quel momento le sai. Adesso che hai creato un ordine, sei riuscito a dare senso, a creare questo quadrato per tornare a quello che ho detto prima, sei riuscito a comprendere le informazioni, a capirle. E fidati che così è anche molto, molto, molto più facile riuscire a ricordarle. Quindi questo era quello che ti volevo proporre nel video di oggi. Partiamo da un esempio teorico, una rappresentazione teorica molto semplice per arrivare poi a livello pratico e quindi poter applicare questo concetto anche nello studio quotidiano. Se hai dubbi, domande o qualunque altro bisogno di supporto, non farti problema a scrivere nella sezione dei commenti o attraverso i contatti che trovi in descrizione. Io ti rinnovo l'invito a richiedere l'accesso al corso gratuito sul metodo di studio per studenti diversitari. Ne approfitto come sempre per ringraziarti del tuo tempo, della tua attenzione e ti aspetto con moltissimo piacere nel video che uscirà domani. Grazie. Grazie.